Grazie a tutti. Il Ministro mi ha affidato la delega all'energia. Ho visto e incontrato alcune delle persone qui, molti di voi, molte imprese che si occupano di green economy, molte delle quali si occupano di produzione di rinnovabili e produzione di industriali che si afferiscono al settore dell'efficienza energetica. Le prime settimane sono state utilissime per me per venire a contatto con un mondo che già conoscevo, ma che è più vasto di quello che mi rendessi conto. E soprattutto, lo dico con soddisfazione come rappresentante del Governo, molto qualificato proprio dal punto di vista della cultura industriale e la cultura imprenditoriale. Tra l'altro, la dico così, anche come in qualche modo in maniera scherzosa, io vengo da una storia industrialista. Io sono di Piombino e mi occupo di ambiente e di energia avendo una cultura e una storia personale di un parlamentare, di un ex amministratore locale che vive una realtà complessa di produzione industriale siderurgica in cui il tema del costo dell'energia e della riduzione del costo dell'energia è un tema vitale per la competitività del settore. Io ho cercato di affrontare questa delega e questo incarico facendo tesoro dell'esperienza complessa e affiancandola all'incarico del Ministero dello Sviluppo Economico. Io vi dico questo. Noi possiamo, lavorando bene, tenere insieme e fare sinergia e non contrapposizione di diverse esigenze del nostro Paese. Noi siamo un Paese che, come è stato detto, non è ricco di fronti primarie. Io vedo, lo dico con qualche perplessità, l'idea che si possa in Italia abbassare il costo di energia trivellando l'Adriatico, non perché ne abbia una contrarietà assoluta, ma perché ho l'impressione che le quantità in ballo possono dare vantaggi minori di quanti non siano gli svantaggi sul sistema. Penso che siamo un Paese invece che il sud settore abbia bisogno di aumentare la propria autosufficienza e contemporaneamente di ridurre il costo dell'energia e della bolletta, soprattutto a carico del sistema della piccola e media impresa. In questo momento io sto lavorando insieme ai tecnici del Ministero, a fianco del Ministero dell'Sviluppo Economico, sul tema del cosiddetto decreto Spalma Incentivi, ma sto lavorando contemporaneamente al decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sull'efficienza energetica. Io credo che le due cose vadano viste insieme e a queste due vada affiancato quello che io ho proposto al Ministero dello Sviluppo Economico un pacchetto rinnovabili in cui si affronta il tema di alcune strozzature burocratiche che danneggiano il settore quanto se non più, ma almeno quanto, i paventati tagli agli incentivi. Io credo che se come Governo, e su questo il Ministero dell'Ambiente sta facendo un lavoro politico a mio avviso rilevante, se come Governo riusciamo a tenere insieme questi tre filoni di lavoro, possiamo far bene al settore della green economy, ma senza danneggiare gli altri settori industriali, anzi aiutando gli altri settori industriali del nostro Paese, sia quelli più tradizionali, penso appunto alla siderurgia, che sono energivori e hanno bisogno di energia, ma anche e soprattutto settori più innovativi. Faccio riferimento alla filiera dell'efficienza energetica, che è un'importante filiera italiana, di tradizione italiana, in cui abbiamo tecnologie e produzioni nel nostro Paese e che possono appunto dare un contributo alla riduzione complessiva del costo della bolletta energetica e lo possono fare incrementando un sistema imprenditoriale industriale che ha sede, che ha realtà e innovazione nel nostro Paese. Sullo spalma incentivi non sarebbe corretto facessi anticipazioni, ma certo anche nella riunione che abbiamo avuto ieri sera molto positiva col Mise e il punto di vista dell'ambiente è stato questo. Tutti d'accordo sulla riduzione della bolletta energetica, su questa riduzione tutti devono contribuire e non solo, ma da un punto di vista del Ministero dell'Ambiente i costi, gli oneri di sistema o quel che volete, se devono far carico, devono favorire sicuramente quelle produzioni che contribuiscono meglio alla riduzione di emissioni e al raggiungimento dei nostri obiettivi su gas serra. Io la dico così, anche questo tema non può essere un tema per la nicchia di ambientalisti. Chi vive nel sistema finanziario, nel sistema delle imprese, non può non preoccuparsi degli eventi come quelli di Sinigallia o come altri, che costano al sistema imprenditoriale e economico nel nostro Paese quanto, se non più, di quanto costano gli incentivi alle rinnovabili. Perché l'evento di Sinigallia, a cui io faccio riferimento, non è l'evento che avviene in una realtà in cui c'è stata speculazione e trascuratezza del territorio. Avviene in una realtà in cui è evidente che il nostro modo, anche laddove siamo ai livelli migliori di tutela del territorio, non è più in grado di tener conto dei mutamenti climatici che ormai non sono più l'eccezionalità, ma che sono diventati la normalità. Allora noi nel pacchetto di quanto ci costa l'incentivo, dobbiamo mettere anche questo. Il nostro punto di vista è stato questo, riduzione dei costi di bolletta, un contributo da parte di tutti, sul fronte delle fonti rinnovabili occorre limitare il più possibile il contributo che si chiede al settore e garantire il modo più efficace perché si vada a un sistema volontario o quasi. Questo è quello a cui si sta lavorando. Si sta lavorando a ipotesi di finanziarizzazione dell'incentivo, di finanziarizzare lo spalmamento degli incentivi, caricando sulle imprese il minor costo possibile. Credo che da questo punto di vista ci sono proposte anche da sorinnovabili, cioè dalle imprese stesse, che sono all'esame con grande attenzione e su cui credo che si possa arrivare a una soluzione accettabile per il settore stesso, provando anche a selezionare quegli aiuti e orientandoli verso quei settori non ancora sviluppati in maniera massima con le tecnologie e lasciando più autonomi quei settori che hanno raggiunto un livello di innovazione e di costi tali da autofinanziarsi con la produzione di energia stessa. Questo è il lavoro che si sta facendo sul cosiddetto spalmamento incentivi. Come Ministero dell'Ambiente e come Settosegretario dell'Ambiente ho chiesto di affrancare questo lavoro a un percorso di revisione delle linee guida per semplificare e migliorare quei pezzi di procedure che rendono la vita complicatissima ad alcuni settori. Penso agli offshore, penso al solare termodinamico, a settori in cui il primo, l'offshore, non si affaccia quasi neanche più a chiedere autorizzazione. Altri come il solare termodinamico in cui i tempi di rilascio delle autorizzazioni sono più lunghi dei tempi degli incentivi stessi. Dovremo coinvolgere il Ministero dei beni culturali. Ho in mente di farlo a più presto perché c'è un tema paesaggio che nel nostro Paese è giustamente molto sensibile e sentito. C'è un tema, quindi una revisione delle linee guida in modo a rendere omogenee e meno faragginose nel Paese. Provare ad affrontare il tema del superamento del divieto di scambio sul posto, il divieto di accumulo. È chiaro che c'è da vedere come si ripartiscono in questo caso gli oneri complessivi del sistema perché se la platea di chi paga gli oneri di sistema si riduce rischia che chi ne è fuori ne paghi di più. E quindi capire come si fa insieme sinergia rispetto a un soggetto che gli viene garantita la possibilità in maniera più rilevante di scambiare e di vendere la sua autoproduzione e come questo può contribuire in maniera sostenibile insieme agli oneri di sistema. Credo che noi abbiamo chiesto di cominciare a ragionare sull'eco bonus che sapete che è in scadenza a dicembre a cui forse va fatta una rivisitazione ma va data una continuità e una garanzia alle imprese di poter programmare. E poi c'è il grande tema dell'efficienza energetica che ho accennato all'inizio e che è un settore strategico da più punto di vista. Quello ambientale che è il mio punto di vista di Ministero dell'Ambiente, cioè di contributo del nostro Paese alla riduzione delle emissioni. Quello che sento poco ma che vorrei che fosse più sentito e che io sto provando nel mio piccolo a sollecitare di spendi review perché nei programmi di spendi review si parla di auto blu, si parla di province, si parla di quant'altro, non si parla del fatto che per esempio c'è un carcere, mi hanno fatto vedere un progetto al Sud che spende 800 mila euro l'anno di gasolio per riscaldare un sistema obsoleto, inquinante o degli stessi edifici pubblici compreso il Ministero dell'Ambiente che probabilmente pagano una bolletta elettrica molto più alta. Sull'efficienza energetica si può fare politiche ambientali, politiche di risparmio e politiche industriali perché come ho detto all'inizio è un settore rilevantissimo. Nel decreto legislativo ci sono circa 350 milioni di euro sul Fondo Unico dell'Efficienza Energetica sostanzialmente messi a disposizione dall'Ambiente e dal Mese. Io credo e l'abbiamo chiesto nel parere che si debba chiedere complessivamente al sistema del patrimonio pubblico di contribuire. Penso agli edifici della difesa, penso alla giustizia, penso al demanio, penso alle infrastrutture. Tutti debbono contribuire con un proprio fondo a questo settore. Anzi, io mi spingo più avanti. Bisogna cambiare la cultura con cui si realizzano le manutenzioni sia nel pubblico e nel privato, ma da partire dal pubblico. E quando si ristruttura un edificio pubblico come si mette a norma? Io faccio questo esempio, l'impianto elettrico. Analogamente deve diventare una prassi, lavorare su tutti quegli interventi possibili di efficientamento energetico che ormai si ammortizzano in tempi relativamente brevi e si ammortizzano da soli. C'è poi il tema, e aggiungo l'ultimo, sempre nel decreto legislativo degli energivori. Nel ricepimento della direttiva si dà la possibilità di ridurre il costo dell'energia agli energivori. Io credo che anche quello possa e debba forse essere fatto, perché ne va della competitività del sistema industriale, solo però mettendo dei paletti sull'efficientamento. Perché se chi consuma molto, oggi gli viene ridotto il costo della sua tariffa, senza chiedergli niente in cambio, continuerà a consumare molto. Allora io, se come Governo lavoriamo, e come abbiamo, devo dire con soddisfazione, cominciato a lavorare con il Vice Ministro De Vincenti in maniera positiva, affrontiamo questo tema, non in negativo, ma in positivo, possiamo fare politiche industriali, politiche energetiche, politiche ambientali, non un settore contro l'altro, ma insieme, per il bene del sistema Italia, per renderlo più competitivo e provare anche da qui a rilanciare la crescita economica, che è il vero nodo, il vero dramma su cui tutti dovremmo essere concentrati. Grazie.